Buonasera dal Tg6, in apertura un'operazione portata a termine dai carabinieri del NAS di Pescara che nel corso di un'operazione dove sono state ispezionate 24 strutture per l'allevamento di bovini da latte sono state denunciate due persone e contestate violazioni amministrative per 30.000 euro sono stati effettuati anche sequestri di bovini. Paolo Lorenzetti Animali maltrattati e costretti a vivere tra gli escrementi in spazi ridotti locali di deposito del latte crudo con muffe, infiltrazioni, umidità e ragnatele aree per lo stoccaggio dei mangimi prive dei requisiti igienici veri e propri allevamenti, lager, quelli scoperti in Abruzzo dai carabinieri del NAS di Pescara che hanno ispezionato in tutta la regione 24 strutture per l'allevamento di bovini da latte le criticità principali sono state riscontrate nell'Aquilano e nel Terramano significativo il bilancio dei controlli condotti con il supporto dei servizi veterinari delle ASL due persone denunciate per concorso in maltrattamento di animali sei segnalate alle autorità sanitarie ed amministrative per violazione in tema di igiene in allevamenti sale di muncitura e depositi, 110 bovini sottoposti a vincolo sanitario per carenze in materia di identificazione e marchi auricolari 24 bovini sottoposti a sequestro penale per maltrattamenti 220 quintali di mangime sottoposti a vincolo sanitario e per 5 aziende agricole di vieto di uso dei locali privi di requisiti igienici contestate inoltre violazioni amministrative per oltre 30.000 euro immaginate che c'erano degli allevamenti dove gli animali erano fra spigoli vivi fra recensioni, fra reti, luoghi dove potevano anche procurarsi in potenza del male è importante guardare alla salute dell'animale perché parliamo di animali che poi sono animali da latte oggettivamente anche le immagini che sono a margine di questa attività documentano come potessero non vivere in condizioni di benessere il benessere animale è importante, l'abbiamo verificato in tutte le situazioni che abbiamo ispezionato sul caso interviene anche Col Diretti che dice è necessario non abbassare la guardia e continuare ad incentivare l'opera di controllo effettuata dalle forze dell'ordine competenti benvenga dunque l'aumento della vigilanza volta al rispetto delle norme e delle regole che permettono al prodotto made in Italy di essere associato al concetto di qualità e sicurezza alimentare Giulio Federici è direttore Col Diretti Abruzzo, ha commentato così la notizia del sequestro e rilancia sull'importanza di poter scegliere con trasparenza ciò che si mangia a garanzia sia del consumatore che del produttore serio ed onesto ora invece ci spostiamo all'Aquila l'amministrazione separata degli usi civici di Paganica è pronta ad andare in procura per la mancata soluzione dell'emergenza salmonella e per le strutture chiuse e incompiute è oramai scontro al calor bianco tra la frazione di Paganica e il capoluogo l'Aquila gli usi civici di Paganica sono pronti infatti ad andare in procura e fare un esposto contro i gnoti per la mancata soluzione da parte del comune dell'Aquila dell'emergenza salmonella che da tre anni ha come conseguenza il divieto di irrigazione nei fertili campi della piana paganichese la società Gran Sasso Acqua ha spiegato che si sta lavorando per potenziare il depuratore e risolvere il problema dello sversamento di liquami sui terreni da impianti fognari sovraccaricati con la realizzazione del progetto case ed anche per individuare i focolai che provocano la contaminazione da salmonella ma la pazienza spiega Fernando Galletti, presidente degli usi civici, è finita La questione qui è gravissima, i nostri campi devono essere sani e non inquinati continuamente dalle liquami che provengono dalle new towns o da altre abitazioni che vanno a peggiorare la situazione che è già tanto gravosa, sono la bellezza di quasi 4-5 anni che noi aspettiamo che venga risanata questa situazione E visto che c'è Galletti denuncia per l'ennesima volta lo scandalo del centro polivalente di Paganica abbandonato da 10 anni e in cui non cominciano ancora i lavori di ristrutturazione pure finanziati da un finanziamento della CGL e del parasport realizzato da due anni e mai aperto Guardatevi intorno, lo scembio che abbiamo, centro polifunzionale anche il sindaco 9 anni fa ci disse che c'aveva un progetto nel cassetto Eccola qua oggi come è messo e abbiamo qui di nuovo una palestra qui altri 4-5 anni ferma, bloccata, inutilizzata E restiamo all'Aquila, il prefetto Francesco Alecce ha inviato quest'oggi al sindaco dell'Aquila Massimo Cialente per conoscenza al segretario generale dell'ente Carlo Pirozzoli al presidente del consiglio comunale Carlo Benedetti forma le comunicazioni di diffida affinché il consiglio comunale provveda entro 20 giorni all'approvazione del rendiconto di gestione 2015 e del bilancio di previsione 2016 Il prefetto ricorda che la mancata approvazione dei due documenti entro il termine di legge fissato al 30 aprile comporta l'attivazione delle procedure dettate dalla normativa di riferimento che prevede come ultima soluzione lo scioglimento del consiglio e dispone la notifica della comunicazione a ciascun consigliere comunale Il termine di 20 giorni per l'approvazione del rendiconto di gestione 2015 e bilancio di previsione 2016 decorre da oggi ed è fissato pertanto a mercoledì 25 maggio L'assessore regionale all'agricoltura Dino Pepe ha illustrato questa mattina in conferenza stampa il pacchetto giovani previsto dal nuovo bando di programma di sviluppo rurale 2014-2020 e riservato ai giovani agricoltori a disposizione ci sono 21 milioni di euro Oggi presentiamo il bando giovane, un bando molto atteso dalla comunità giovanile agricola regionale Mettiamo a disposizione 21 milioni di euro, 14 per la parte a premio e 7 per la parte a investimento Possono partecipare a questo bando in giovani fino a 40 anni, la scadenza del bando è il 4 luglio prossimo Un investimento importante, 21 milioni di euro riguarda il primo bando della nuova programmazione per quanto riguarda i giovani Perché complessivamente abbiamo messo a disposizione 45 milioni di euro per tutti e 6 anni della nuova programmazione Un investimento importante che ci consentirà di rigenerare tanta parte della classe imprenditoriale agricola regionale In agricoltura c'è bisogno di ricerca, di innovazione, di studio, di formazione Tanta parte delle misure del PSR riguardano questi aspetti E accogliamo volentieri i tanti giovani che in questi anni stanno studiando agli istituti tecnici agrarie Le facoltà di agrarie, le facoltà di veterinari Riscontriamo degli iscritti boom da questo punto di vista, questo ci fa piacere Noi dobbiamo accogliere questi giovani all'interno della comunità agricola regionale E questi fondi sono lì a sostenere l'ingresso dei giovani in agricoltura Una ricca agenda di lavoro per la quinta commissione di sanità Dove sono approdati ben quattro progetti di legge per contrastare il fenomeno della ludopatia E inoltre a firma di Lucrezio Paolini dell'Italia di Valori anche per le parità di genere Parità di genere nelle istituzioni, sport accessibile e disabile, leggi contro la ludopatia Questi alcuni dei temi in forma di progetti di legge approdati oggi in quinta commissione sanità della regione Dubbi fortissimi esprime il consigliere del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari Sugli aiuti ai disabili per le attività sportive previsti nel progetto di legge l'assessore Marinella Sclocco Non si capiscono infatti i criteri di selezione e perché, nelle voci ammesse, ci siano l'acquisto di giornali in riviste E di coppe in medaglie senza nemmeno un tetto di spesa Si ammettono tra le spese ammissibili, scusate il bisticcio di parole Anche quelle per riviste quotidiani, per acquistare targhe, per acquistare coppe e quant'altro Senza impostare una percentuale Questo che significa? Che il contributo potrebbe essere utilizzato anche solo ed esclusivamente per acquistare le targhe, le coppe O riviste, pubblicazioni, abbonamenti ai giornali Allora io mi chiedo se questa legge è per incentivare la pratica sportiva dei disabili Poi andiamo a finanziare cosa? Il contorno? Il corollario? Ben quattro i testi di legge arrivati in commissione contro la lotta alla ludopatia Che prevedono azioni di prevenzione, terapie e limiti alla promozione del gioco d'azzardo Toccherà fare sintesi, concordano Giorgio D'Ignazzo del nuovo centrodestra e il capogruppo PD Sandro Mariani Prevede informazione presso la scuola, nei giovani, perché oggi la ludopatia è un'età Quindi informazione e prevenzione, poi soprattutto una battaglia forte alla pubblicità Che sappiamo, che vediamo tutti i giorni, che ci parla di vincite miracolose In realtà questo non è e poi chiaramente cura nei confronti di chi cade in questa dipendenza dal gioco d'azzardo Beh, innanzitutto si sta cercando appunto di riunire i testi di legge per fare una legge unica Visto che sono molto simili, quindi le differenze in sostanza sono quasi non rilevabili Quindi su questo si sta facendo un lavoro di crasi, di sintesi E siamo sicuri e siamo convinti che entro breve appunto si produrrà un testo unico di comune accordo Il vicepresidente del Consiglio regionale, Lucrezio Polini, presenta invece una norma per la parità di genere Da approvare in un Consiglio regionale composto quasi interamente da uomini Beh, è previsto che in ogni progetto di legge che questa regione da questo momento in poi Dovesse mettere in campo laddove, come dire, si evidenzia una questione che attiene alla questione di genere E allora bisogna necessariamente normare questo progetto di legge e inserire quelle norme che garantiscono agli uomini e alle donne Un pari accesso alle cariche pubbliche, alla retribuzione, al lavoro Nuovo assetto per il prossimo triennio per Confindustria Teramo Che questa mattina ha presentato le sue linee programmatiche Lisa Leuz Maggiore attenzione alle piccole e medie imprese Presidio di lobby costante sull'area di crisi Val Vibrata Concretezza con l'attuale sistema creditizio per una politica del credito e una finanza a servizio delle imprese Maggiore rapporto con le organizzazioni sindacali e gli enti previdenziali Più attenzione e miglior utilizzo dei fondi europei Internazionalizzazione e infine maggiore intensità del network impresa-scuola-università Queste le linee programmatiche del neopresidente Cesare Zippilli Noi puntiamo intanto a creare una più forte Confindustria Più forte perché deve stare vicino alle imprese, migliorare i servizi e aumentare la robbia associativa Stare vicino alle imprese vuol dire ascoltarle Quindi uno dei miei obiettivi è anche organizzare delle giunte itineranti Proprio all'interno delle aziende, ascoltare i bisogni delle aziende, dei territori In maniera tale da poterli anche tradurre nei confronti della politica e delle istituzioni Io ritengo che uno degli obiettivi a cui dobbiamo puntare è quella di portare la fibra ottica nelle aree industriali Perché questo in un mercato globale è un'infrastruttura importante a cui la regione deve dare risposta Il rapporto sinergico tra territorio e mondo delle imprese deve essere la stessa cosa per quanto riguarda l'università e la scuola Noi abbiamo una buona scuola e una buona università sul territorio Dobbiamo fare in modo che si sposi con la richiesta di mano d'opera Sull'aggregazione Chieti-Pescara? E' la domanda Sull'aggregazione Chieti-Pescara si è fatta troppa polemica Ci sono punti di vista, magari anche diversi C'è un progetto nazionale che impone in qualche modo alle territoriali di fondersi Confindustria e Abruzzo avrebbe già dovuto arrivare a una fusione regionale Facendo due passaggi intermedi Chieti-Pescara e Teramo-L'Aquila Non si è riusciti, per motivi diversi, a fare la fusione Teramo-L'Aquila Oggi i tempi sono maturi per fare la fusione regionale Noi siamo per fare la fusione regionale Si è tenuto questa mattina presso la Camera di Commercio di Chieti Un tavolo di lavoro denominato Franchising Day E organizzato in collaborazione con Confesercenti Per discutere delle nuove opportunità di lavoro e di crescita per il territorio Parte da Chieti un progetto importante che riguarda tutta la nostra regione Parlando proprio di franchising, quale in particolare? C'è un Open Day qui in Camera di Commercio Che rientra nell'ambito di un progetto chiamato Progetto Chieti Che tende alla rivitalizzazione delle attività commerciali In particolare nel nostro centro storico E quindi con questa giornata cerchiamo in qualche modo di presentare alcuni marchi in franchisor E quindi mettere insieme con un workshop i francesi e i franchisor Ovviamente questi marchi presenti hanno interesse ad investire non soltanto in questa città Ma in tutte le altre città della regione La Federazione Italiana del Franchising appartenente a Confesercenti Organizza su tutto il territorio nazionale dal 1999 Queste iniziative per promuovere questa formula commerciale Che nonostante gli anni di difficoltà economica Continua a dare un trend positivo Tenete conto che il comparto del franchising in Italia Rappresenta un fatturato di circa 23 miliardi di euro Con circa 200 mila occupati nel settore del franchising Circa 950 aziende e 52 mila punti vendita Giovani, scuola e famiglia tra internet e tv E torna a Teramo il convegno dedicato agli studenti Un incontro dal titolo New Media e New Generation La sala San Carlo del Museo Archeologico di Teramo Ha ospitato l'incontro di studio dal titolo New Media e New Generation I giovani, la scuola, la famiglia tra internet e tv Un approfondimento volto a sviscerare le dinamiche Che regolano il rapporto dei giovani con i mezzi di informazione Anche alla luce della popolarità dei social network Si tratta di un evento ormai che è diventato tradizione della città di Teramo E questo sicuramente va a merito degli organizzatori Il fatto stesso poi che partecipino studenti delle scuole superiori con i loro professori Vuol dire essere sempre più attivi in una comunicazione relativa ai rischi del bullismo Del ciberbullismo, della tossicodipendenza E quindi fare un'opera proprio di educazione a 360 gradi Che è soprattutto necessario nel momento in cui Gran parte poi della vita degli studenti avviene fuori dalla scuola e fuori dalla famiglia Assessore, per Teramo questa è una tappa importante E i ragazzi vedo che sono molto interessati a questo argomento Beh sì, peraltro abbiamo dei relatori fantastici Cioè di risonanza internazionale Dell'Università di Roma C'è il professor Tognoni, c'è il professor Rusconi Che stanno parlando poi di un argomento di straordinaria attualità e importanza Che riguarda un po' i rapporti tra i nostri ragazzi E l'uso dei media, dei social network Dove è un mondo come il mondo reale Cioè un mondo dove c'è il bello, il brutto, il cattivo, il buono E poi l'importante è l'uso che se ne fa Poi c'è anche, ci sono dei rappresentanti della polizia postale Che fanno un lavoro straordinario di prevenzione dei reati Anche in questo mondo appunto virtuale Sabato e domenica a Francavilla torna un evento fieristico molto frequentato Fiori e fragole, la terza edizione quest'anno Alfredo Primante Regina incontrastata alla fragola Anche quest'anno si ripete l'appuntamento d'inizio primavera Con Francavilla, fiori e fragole, manifestazione giunta alla sua terza edizione Un'esplosione di colori e sapore che nel prossimo weekend invaderà Il lungomare Francesco Paolo Tosti nella zona sud di Francavilla Ponendo al centro dell'attenzione un'eccellenza della produzione agricola locale È un evento fieristico che esalterà soprattutto i vivai e gli agricoltori Che esporranno i loro prodotti e metteranno in risalto le eccellenze del nostro territorio Casartigiani insieme al comune di Francavilla Si è impegnato nell'organizzazione di questo evento Partiamo dalla mattina con l'arrivo di operatori principalmente del territorio Poi provenienti un po' da tutta Italia Prendono parte circa 80 operatori di settore Questo ci tengo a specificarlo perché sarà come il titolo Fiori e fragole Francavilla Operatori inerenti il vivaio, i fiori Quindi tutto quello che è il mondo agricolo Per finire poi allo street food Questo ci tengo a specificarlo perché sono operatori provenienti da tutta Italia Street food e track food È stata prevista un'area a bimbi Quindi nei due ingressi Ci saranno confiabili totalmente gratuiti per loro Oltre che tutte le animazioni che comunque li terranno tutte e due le giornate Migliaia di persone attese a Teramo sabato in occasione della Peristritz Vediamo Appuntamento sabato con l'Aperistritz Un evento sempre molto partecipato Quale sarà il programma? Allora sabato dalle ore 21 in cui Piazza Martiri partirà il Tour Aperistritz Tour Aperistritz che parte proprio da Teramo Perché ha un significato importante Teramo diciamo che è stata la piazza dove si è consolidato Il marchio Aperistritz Per poi arrivare anche ad Ascoli Perché il 21 maggio saremo nella piazza del popolo Ascoli Il format sarà sempre lo stesso Quindi con l'aperitivo servito in piazza Abbiamo per fortuna tutti i tavoli prenotati Migliaia di persone E la cosa più bella è che arrivano da due regioni Quindi sia da Abruzzo che dalle Marche Quindi abbiamo tanti prenotati da Ascoli, da San Benedetto Chieti, Pescara Ed è una grande soddisfazione Il format della musica è sempre il nostro Quello di Franceschi e Leventi Con la musica Revivalo 70-80 Assessore, un evento che a questo punto diventa importante Per i commercianti vista la crisi Sì, lo è sempre stato la Peristritz Torna a Teramo Dopo l'ultimo appuntamento del 2 maggio dell'anno scorso Questo porta naturalmente un vantaggio alla città Perché Marcellini Porta a Teramo Gente anche da fuori provincia E quindi Non tutti verranno a mangiare alla Peristritz Qualcuno, come è sempre successo Mangerà nei ristoranti di Teramo Comprerà nei negozi di Teramo Perché Molta gente che viene alla Peristritz Viene a Teramo dal pomeriggio E quindi credo che questo sia importante Sabato sera Dalle 21 in Piazza Martiri Ora apriamo la pagina dello sport E lo facciamo con le disegnazioni arbitrali Per il prossimo derby Pescara-Lanciano Sarà Rosario Abisso di Palermo L'arbitro della sfida abruzzese Pescara-Lanciano Valida per la quarantesima giornata di Serie B A coadiuvarlo saranno Daniele Bindoni di Venezia E Maurizio De Troia di Termoli Quarto uomo Eugenio Abbattista di Molfetta E c'è attesa per il derby di domenica Prosegue la vendita dei biglietti a buon ritmo E attesi a rientro ci sono anche Verre e Memushai Queste le parole del tecnico Penso che Tutto sommato Questo è stato fino adesso Un campionato divertente Tra Alti e bassi Più alti che bassi Sinceramente Bene o male Anche Se non piace perdere In quelle 8-9 partite La squadra ha sempre fatto divertire E quindi Credo che tutto sommato Visto che la gente di Pescara Dice sempre che L'importante è divertirsi allo stadio Vorrei che rispondesse anche con i fatti E quindi ci aspettiamo Che Che possa essere uno stadio Con più gente Perché la squadra se non merita Perché Perché è un momento Importante E i giocatori lo sentono Sentono il calore Che c'è attorno A loro E può essere un momento Determinante Però al di là poi Di chi viene Io sono Contentissimo Di quei 7-8 mila Che vengono sempre Perché sono Sempre stati molto caldi E L'importante è che c'è Quello zoccolo duro Poi Se sono di più E E fanno più scena E più rumore E' ancora meglio Questo è stato l'anno Ad esempio di Francesco Sta facendo un grandissimo campionato Io ho sentito più volte Ma come si fa A lasciarsi Scappare giovani così Ma non è una questione di scappare È una questione che la storia del calcio Ci insegna E ci sono milioni di storie Di giocatori che Hanno fatto provini E non sono stati presi Perché Il calcio Purtroppo Non è fatto di È fatto di scommesse E ci sono ragazzi Che hanno grandi qualità E che però Magari non le dimostrano Nel provino determinante Nel momento in cui fanno Una partita con Con una squadra In cui sono in prova Oppure Esplodono più tardi Oppure migliorano tantissimo Come per tutti gli altri giovani Che è Lanciano E ce ne sono tanti bravi Anche perché la politica Di dicembre è stata quella Di puntare sui giovani Giovani sull'entusiasmo Giovani di grande qualità Conosco bene Vitale Conosco bene Bonazzoli E tutti quanti Questi ragazzi Che stanno facendo Grandi cose E dall'altra parte Il tecnico Rosso-nero Primo Maraiulo Che è ottimista Sul recupero Di Ferrari Che sta lavorando In maniera differenziata In difesa Mancheramenta Squalificato Dopo l'espulsione Rimediata Sabato scorso Che dovrebbe essere Sostituito da Riggione Adesso invece Ascoltiamo anche Il tecnico Primo Maraiulo Come avete visto Negli ultimi periodi È normale Che nel momento In cui Una squadra Nel suo contesto È affiatata Perché in linea di massima Giocano sempre Gli stessi giocatori È normale Che sia Molto Molto importante Però Detto questo Non posso non considerare Che nelle ultime Nelle ultime 7-8 partite C'è stato qualche C'è stato qualche Avvicendamento Tra l'altro Sono pochi E fra questi pochi È capitato Di far giocare Anche Michele Riggione E quindi Sono Sono straconvinto Che Che le cose Possano andare Benissimo Lo stesso È uguale E anche Per gli altri Elementi Che in questo Contesto Di partite Sono comunque Subentrati O hanno fatto Parte Della Della squadra Ferrari Ferrari Sta Sta facendo Le cure dovute Sembra che La situazione Non sia poi Così Grave Come si Prevedeva Sabato Perché Si pensava A un A un Fostidio muscolare Molto più Pericoloso Diciamo Invece Sembra che La situazione Non sia Gravissima Però Col passare Dei giorni Man mano Che ci avviciniamo Al fine settimana Indubbiamente Avremo La situazione Molto più Precisa Ora scendiamo In Lega Pro All'Aquila Si continua a parlare E si torna a parlare Dell'inchiesta Dirti Soccer La Procura federale Ha chiuso Le indagini Del terzo filone L'Aquila Dovrà rispondere Di nuovo Per responsabilità Oggettiva Gianmarco Meng In attesa di giocarsi La Lega Pro Sul campo Negli spareggi Playout L'Aquila Torna a tremare Per la vicenda Calcio scommesse Nella giornata Di ieri La Procura federale Ha comunicato La chiusura Delle indagini Del terzo filone Dirti Soccer A breve A breve sono attesi I deferimenti Il club aquilano È chiamato A rispondere Per responsabilità Oggettiva In virtù Del presunto Coinvolgimento Dell'ex responsabile Dell'area tecnica Ercole Di Nicola Un'accusa Che nei processi Dei primi due filoni Ha portato Già alla penalizzazione Di sette punti Scontati In questo campionato Stavolta Le partite incriminate Sono nell'ordine Martina Paganese Del 20 dicembre 2014 Tutto Cuoio e Gubbio Del 29 marzo 2015 Pistoiese L'Aquila Del 12 aprile 2015 Gubbio Sant'Arcangelo Del 19 aprile 2015 Sant'Arcangelo Ascoli Del 25 aprile 2015 E l'Aquila Grosseto Del 12 aprile 2015 Di queste L'unica antecedente Al 21 febbraio 2015 Giorni in cui Ercole Di Nicola Si dimise Da responsabile Dell'area tecnica Rosso Blu È solo Martina Paganese Se dovesse quindi Passare la stessa Linea di giudizio Dei primi due processi L'Aquila Rischierebbe Un'effettiva penalizzazione Solo per questa partita Ad ogni modo Il processo sportivo È atteso Non prima dell'estate E le penalizzazioni Saranno rese Effettive Nella prossima stagione Ultima uscita Stagionale Per il Teramo Domenica pomeriggio Alle 18 a Ponte d'Erre Il diavolo Non ha più nulla Da chiedere al campionato E quindi A tenere banco Il rinnovo Dell'allenatore Vincenzo Vivarini A cui La società Ha chiesto Una risposta Sull'offerta Di prolungamento Del contratto Entro l'inizio Della prossima Settimana Intanto invece Ci andiamo a ascoltare Le parole di Mirko Petrella Avevo segnato poco E avevo segnato ancora di meno Quindi per quest'anno Diciamo Sono in crescita Data la stagione Di due anni fa Chiaramente Uno Pensando a questo punto Della stagione Dove ci troviamo adesso Dice Sicuramente Potevo fare di più Però dopo Ti metti a riflettere E pensi I problemi di quest'estate Le nuove partite In 30 giorni Tutto quello che è successo Durante la stagione Comunque Non abbiamo mai lavorato In piena serenità C'è sempre stato qualcosa Che ha un pochino Caratterizzato L'andamento Della settimana Della partita Quindi Superciu Siamo contenti Ma non contentissimi Sicuramente Potevamo dare molto di più Tutti quanti E di questo Ne siamo consapevoli Però comunque Non siamo neanche Al punto di dire No Questa stagione È da buttare Quindi comunque Siamo contenti Ma non contentissimi Penso che Comunque Ho altri due anni di contratto E che io sto benissimo Qui a terra Poi Quello che succede In sede di calciomercato Chiaramente Non posso dire Che il resto Al 100% Che vado via sicuro Si conclude qui L'edizione Del TG6 Il prossimo appuntamento Con l'informazione Torna domani Alle 14 Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.